Buongiorno a tutti, allora giubbino, giubbino nell'Inter, quello che mi hanno regalato a Natale, perché il fomento prosegue, il fomento prosegue, gruppi nerazzurri che seguo e c'è da piangere. Allora, tre argomentini veloci veloci da leccarsi le orecchie, spero di non essere prolisso come al solito, perché questa è la terza volta che provo a fare questo video. I primi due sono stati un po' troppo lunghini e allora ho detto lo rifacciamo per la terza volta. Allora il primo argomento è Sensi. Come si fa a mandare via Sensi? Ne avremmo bisogno. Un giocatore come lui può far rifiatare sia Cialanoglu che Brozovic. Signori, il problema è che Sensi ha chiesto lui di essere mandato via, o meglio di essere mandato in prestito, sia per dimostrare di essere integro, quindi di fare questi quattro mesi alla grande con la Sampdoria, dimostrare che finalmente l'integrità fisica, anche perché ha 25-26 anni, non è un trentenne, è tornata eccetera, quindi ci si può affidare di lui come centrocampista e sarebbe tanta roba, sia perché lui vuole giocarsi le chance di giocare i prossimi mondiali, che appunto sempre se l'Italia ci andrà, e comunque di giocarsi la nazionale e poter essere nei 22 che proveranno a qualificarsi ai prossimi mondiali. Io la vedo dura che ci qualifichiamo, proprio per il discorso che faceva il buon Calbi, figurati se lasciano a casa CR7 e noi dobbiamo affrontare la squadra di CR7, tra l'altro in trasferta. Poi, signori miei, Sensi c'è il problema appunto che lo mandi in campo, ti fa il segno della croce e ti auguri che non si faccia male, soprattutto se l'hai fatto come ultimo cambio disponibile e magari manca ancora 20-25 minuti alla fine della partita e sei in bilico, non stai vincendo 3-0, magari stai vincendo 1-0, 2-1, mandi in campo Sensi per tener palla, per girare, per giostrarla, eccetera, eccetera, però te la stai giocando, non è che sei sul 3-0 bello tranquillo, rilassato, è vero che nel calcio tutto può accadere, però. E quindi, e poi comunque ha chiesto lui di essere ceduto e giustamente non è che puoi tenere un giocatore per forza, se si era la prima riserva, lui non ha voglia di fare la riserva, vuole giocare, ha bisogno di giocare perché sennò non dimostra una beata Giovanna. Per quello l'abbiamo lasciato andare alla San, non è che l'abbiamo ceduto definitivamente, sta via questi quattro mesi e poi si valuterà se buttarlo dentro in qualche scambio, cederlo, venderlo, tenerlo e deciderà anche lui con l'allenatore, eccetera. Quindi tutto soddisfattismo. Ragazzi, non è che puoi tenere un giocatore per forza, che comunque ha una riserva e non ha voglia di fare la riserva, giustamente. Poi lo sappiamo che Sensi, se sta bene, è tanta roba, l'abbiamo visto giocare, abbiamo avuto il piacere di vederlo giocare. Poco, ma quel poco è stato più che sufficiente. Però così è, se vi pare, come diceva quello là. Veniamo ai commenti dei milanisti che sono veramente una roba atroce, ridicola, eccetera. Allora tu vinci un derby che ringrazia, ripeto, la Madonna che l'hai vinto, perché se c'era una giustizia o se era una gara di box avresti straperso i punti di un botto, perché praticamente su 15 riprese ne hai vinte due e le altre 13 le ha vinte il tuo avversario. Però siccome è calcio, conta segnare, avete fatto due gol, avete vinto 2 a 1 e ve l'ho portata a casa. Al massimo fate il gesto dell'ombrello, te ti abbiamo fregato. Ma sentire da quello che leggo, perché giustamente i tifosi dell'Inter scrivono i commenti dei milanisti, mi ha messo una sfilza di commenti dei milanisti che signori miei non stanno né in cielo né in terra, cioè questi ne sanno di calcio come Malgioglio ne sa di figa, cioè veramente una roba oscena, cioè sono andati a scrivere addirittura siete degli scappati di casa a noi, vi abbiamo dominato e abbiamo strameritato di vincere. Non so che partita abbiamo visto, però leggere queste cose qui uno dice vabbè dati un altro sport perché tu di calcio, punto primo non ne capisci niente, punto secondo c'è il paraocchi come i cavalli che gli mettono il paraocchi davanti, c'è scritto forza Milan e vedi solo il Milan e quindi anche se perdi 6 a 0, grande Milan, ma avete perso? No ma è grande Milan, non mi interessa. E quindi anche lì mi fomentano, mi fomentano, cioè veramente io sinceramente dopo un derby vinto del Già al massimo vi faccio il gesto dell'ombrello e vi faccio signori miei, voi sbagliate, noi no e ci portiamo a casa a tre punti, ma non mi metto a fare il fenomeno a dire vi abbiamo dominato eccetera, no mi è andata di culo, abbiamo sfruttato i vostri errori, siete dei curucù e ve lo siete preso in del purupù, questo potrei dire, ma non che abbiamo dominato noi grandi parate, fatta una andando vicino di parata, tra l'altro l'unica parata degna di chiamarsi parata come vi ho già detto. Veniamo poi all'apoteosi globale totale del disfattismo interista dei miei colleghi, cioè noi, ve lo dico sinceramente, abbiamo sbagliato il gemellaggio, non dovevamo gemellarci con i romanisti perché siamo uguali, noi e i romanisti siamo uguali, iperbole, stravinciamo lo scudetto d'estate, no? Loro molto più di noi ma proprio loro esponenzialmente più di noi, stravinciamo, facciamo qua, facciamo su, facciamo giù, arriva la prima sconfitta, siamo una squadra di merda, non siamo capaci, eccetera, eccetera, eccetera. E gli interisti sono, non tutti infortunatamente ci manca, ma ce n'è una marea. Ho visto la partita con l'altro mio amico, era una roba oscena, era una roba oscena. Abbiamo perso col Milan, ha già detto, il Milan vince lo scudetto, noi arriviamo quinti, non vinciamo più niente, in zaghe da esonerare, cioè noi abbiamo lo score che hanno Real Madrid, Manchester City, siamo meglio del Paris Saint Germain, eccetera, però siamo una squadra scarsa, scarsa, non arriveremo neanche quinti. Poi già l'apoteosi che mi fa incazzare ancora di più, è sulla partita di questa sera con la Roma che io pretendo di vincere, pretendo, ma non di vincere 1-0, no, 3-0 minimo, ci abbiamo vinto a Roma 3-0, quindi giochiamo in casa, devi fare lo stesso risultato, 3-0 a casa. E chi se ne frega che c'è Murigno, non facciamo, c'è la beneficenza, l'abbiamo già fatta domenica, basta. Adesso di beneficenza la faremo quando avremo forse lo scudetto in tasca, forse, perché magari saremo stronzi lo stesso e vinceremo anche le partite che ormai non ce ne frega più una beata Giovanna perché abbiamo già lo scudetto in tasca. Quindi questa sera invece sentì, chi se ne frega della Coppa Italia, la partita importante con il Napoli, no? La partita importante con... perché se anche dovessi malauguratamente perdere a Napoli hai sempre una partita in meno, la vinci e torni davanti al Napoli, poi siccome hai già giocato con tutte le migliori, ti manca solo Roma e Juve, perché poi con le altre hai già giocato con tutte, hai un bel filotto di partite in cui puoi vincerle tutte tranquillamente e lì le prende. Se sei una squadra che vuol vincere lo studio deve vincere, però no, ormai non arriveremo neanche quinti, perché questo è il disfattismo interista, questa è l'apoteosi dal passare ed alziamo il Monte Everest, alziamo il Monte Stella da una settimana all'altra. È lo stesso, solo di solito succede con i giocatori, no? Un giocatore una domenica ti fa doppietta, prendiamo Gaston Perero, se non sbaglio, non so se si chiama Gaston Perero, comunque Perero, domenica ha fatto doppietta con il Cagliari, ne parleremo poi nel video di domani del riepilogo campionato Serie A e poi farò anche il riepilogo del fantacalcio perché aspettavamo la partita di questa sera, anche se ormai era già scontato, però dovevamo aspettare la partita di questa sera per le conferme. Poniamo che Gaston Perero ha fatto la doppietta e ha fatto vincere il Cagliari a Bergamo. Domenica il buon Gaston Perero, non voglio gufagli, eccetera, ma magari sbaglia a porta vuota il gol che avrebbe regalato tre punti al Cagliari, è una pippa, è un pippone, non è capace, perché questa è la mentalità dei tifoni, la domenica stelle, la domenica dopo stalle, gli interisti uguali, facciamo un campionato, stiamo facendo bene perché allora, l'estate, è tanto se arriviamo in Champions, figurati con Inzaghi cosa può fare Inzaghi rispetto a Conte, ma figurati, ma cosa vuoi che facciamo? Poi non abbiamo più Lukaku, non abbiamo più Hakimi, come faremo? Qua là su giù. Poi stiamo facendo un campionato della Madonna, nonostante ci manchino quei giocatori, ci manca pure Ericsson, ci manca pure il Conte. Perdiamo una partita dopo tre mesi, quattro mesi, quello che è, l'altra l'avevamo persa a ottobre, l'ultima partita che l'abbiamo persa, poi l'abbiamo persa a febbraio, magari la prossima la perdiamo a maggio, per dire. Per il resto facciamo dieci partite, nove vittorie, un pareggio, poi perdi a maggio. Abbiamo perso la partita, adesso ci recuperano, anche se magari mancano quattro giornate e hai undici punti di vantaggio, adesso ci recuperano, non le vinciamo più. Perché noi siamo così. Anche per la partita di questa sera, l'altro disfattismo pianisteo, l'arbitragio. Allora, il sabato il buon guida, detto Giuda, ha deciso che le gomitate, le spintonate, i rusoni, come li chiamano qua, non sarebbero stati fanno, ha deciso così, ha arbitrato molto all'inglese, lasciando correre tutti gli interventi, perché c'era la gomitata del buon Teornan, si fa per dire, a Barella non l'ha considerata, quindi ha arbitrato sempre in questa maniera. Giustamente gli interisti, noi interisti, abbiamo fatto notare che arbitrando così ha facilitato il Milan, che l'ha buttata più in casciara rispetto a noi, ci ha messo più fisicità, ci ha messo più quella cattiveria in più di entrare con la spalla, entrare deciso, entrare col gomito alto, eccetera, che magari noi che giochiamo più con il fioretto, facciamo meno. Però ha deciso di usare questo metodo di giudizio e l'ha usato per tutta la partita, quindi quel rusone che gli ha dato il buon Giroux a Sanchez, è un rusone, è una spintonata, è una sportellata. Il problema è che Giroux è un metro e novanta quello che è, Sanchez è un nano di un metro e settanta, quindi basta che gli dai una spintarella e ti finisci al terzo anello. E quindi, ragazzi miei, l'errore è stato che non avevamo Correa, che era più un giocatore adatto per quella partita lì, e avevamo un Puffo Sanchez. Quello ormai loro l'avevano messa sulla fisicità, eccetera, e noi siamo più tecnici, loro sono più del Kachavik per intenderci. E quindi col fatto che c'è stato l'arbitraggio, ma ci ha arbitrato male, eccetera, danno già per scontato che questa sera l'arbitro della sfida Inter-Roma sarà tutto pro Roma perché devono restituire il favore alla Roma di tutti i torti che hanno subito, quindi giustamente lo fanno pagare a noi, ancora prima che inizi la partita. Io, queste cose qua mi fanno incazzare. Io gli arbitraggio, ripeto, li guardo. Se la mia squadra gli negano un rigore grosso come una casa, gli annudono un gol che non è fuori gioco, gli fischiano un rigore contro inesistente, adesso col VAR è più difficile, però può capitare, è successo l'anno scorso con... Lì mi arrabbio. Ma per le spintarelle e fallettini, queste cose qua, soprattutto se un arbitra ha deciso di usare un determinato metro di giudizio per tutta la partita, non me ne frega niente, non me ne frega niente, amen. Soprattutto se poi ho avuto quattro occasioni limpide per fargli tre pere, minimo, tre pappine, tre pappine tranquillamente. Nel primo tempo, gol di Pedicci, altri due, ci stavano tutti. Tre a zero. E hai chiuso il discorso. Poi puoi mettere le riserve, puoi mettere quello che vuoi, non ti recuperano più neanche a piangere. Ma se tu crei per segnare tre gol, per difetto, non per eccesso, e poi ne fai uno solo, se gli altri poi ti recuperano col gollonzo, con l'azioncella, con quello che vuoi, la colpa è tua. Poi puoi trovarti anche altri alibi dell'arbitro eccetera, ma prima devi guardare a te. E purtroppo io non mi sono arrabbiato con l'arbitro, mi sono arrabbiato perché come al solito creiamo un sacco di occasioni, giochiamo 60-70 minuti, poi ci addormentiamo perché tanto ormai noi non ce lo possiamo permettere perché gol da pirla li prendiamo sempre. Detto questo ragasoli mi sono dilungato lo stesso troppo, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima. Ciao!